porto corto la scorpa deve andare lunga in prima ma anche in prima ma dagli tanto e va su no ti hai messo il pieno solo da controllo da fifa e basta si ma lo so che è l'hai fatta perfetta non è che mi dà ho fatto tutto la mia paura è sempre quella è sempre da scendere è ancora la stessa storia non cambierò mai così bravo uguale ma bello lungo qua non aver paura via aspetti troppo aspetti troppo tu quando arrivi che imposti davanti qua devi già aprire perché se apri lì ti fa così e basta resti là anche se metti il peso ma non ce la fai più andare su poi è arrivato non fate a cagare è arrivato guarda che ti ha tirato l'aria e ho detto così gli dai una gasata o è sporco c'è la chiave, c'è tutto? la chiave si però c'è quella del montese però è un po' piccola dai? prova ma secondo me non è la cantera io l'ho smutato prova ad andare, fai una tirata in terzo e quarto e vedi allora com'è? ma che mezzo hai preso? un uomo figa allora un uomo figa ormai quello è